Un futuro più che mai incerto assume i connotati di una spada di Damocle che pende inesorabilmente sulle teste dei lavoratori delle partecipate comunali e provinciali di Brindisi. Quanto sta accadendo in questi mesi, in città rischia di provocare effetti devastanti sulle sorti dei dipendenti di Brindisi Multiservizi, partecipata comunale, Santa Teresa, società in ausso della provincia ed STP. Ed ovviamente un terremoto occupazionale provocherebbe importanti disagi anche nei servizi offerti alla cittadinanza, già abbastanza carenti. Partiamo dall'ultimo caso riguardante la Società dei Trasporti Pubblici. La provincia di Brindisi, infatti, socio maggioritario della ditta, nell'ultimo consiglio provinciale non ha voluto approvare il bilancio dell'STP a seguito di segnalazioni relative a presunte corse fantasma, rendicontate ed appunto mai effettuate. Denunce che sono state esposte sia dal presidente dell'ente, Toni Matarrelli, e sia da quello dell'STP stessa, Salvatore Tomaselli, per le quali se ne sta interessando anche la procura. Tanto che dopo poche ore dall'assise sono arrivate le dimissioni del consigliere di amministrazione, Alessandra Cursi, a cui sono seguite quelle dello stesso Tomaselli. E nel frattempo si attende l'approvazione del bilancio consuntivo 2022, oggetto di discussione nell'Assemblea dei Soci, fissata per il prossimo 27 ottobre. Situazione sempre più difficile anche quella della Brindisi Multiservizi, società in house del Comune, la quale ha chiuso il bilancio 2022 con un passivo di 600.000 euro. Ed anche in questo caso la vicenda finisce sotto la lente di ingrandimento della procura, con un esposto presentato dall'ex amministratore unico della partecipata Giovanni Palasciano, che, per suo dire, narra quelle che sarebbero le responsabilità imputabili al sindaco Giuseppe Marchionna, una su tutte il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti. In ultimo, nuovamente sulla braccia ardente, la situazione in cui versa la Santa Teresa, certamente la più vessata in questi anni, la quale anch'essa ha presentato un consuntivo in perdita nel 2022. E questa vicenda ha coinvolto anche l'ex presidente della partecipata, ossia l'attuale primo cittadino di Brindisi. Si contesta, infatti, il mancato riconoscimento da parte dei tecnici della provincia di crediti per lavori effettuati inseriti nel consuntivo 2022 di 300.000 euro circa, su fatture per un valore complessivo di oltre 1.400.000 euro. Tanto che si paventava l'ipotesi di mettere in liquidazione la società. Scenario scartato dall'attuale amministratore Luca Resta, grazie al decreto mille proroghe. Insomma, un autunno caldo per le società partecipate, mai come in questo momento storico con un futuro in bilico. Ed ovviamente la situazione interessa direttamente i tantissimi lavoratori e le loro famiglie, ma anche i già precari servizi offerti alla comunità.